Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per soddisfare la curiosità di molte persone che si chiedono Cosa c'è all'interno del Ferrero Rocher? Quello occidente? Ma tu lo sai? No, tutti si chiedono cosa c'è all'interno del Ferrero Rocher e lo sanno solo chi ovviamente l'ha aperto. Io non l'ho ancora aperto, infatti come potete vedere è tutto chiuso E quindi oggi stiamo qui per aprirlo e vedere cosa c'è all'interno Un mio pensiero è che secondo me tutto fuori è tipo cioccolato con tre racioni dentro E l'interno c'è qualche piccola Ferrero Rocher E' un pensiero, poi non lo so Quindi apriamolo e guardiamo Quindi allora si stacca Io le apro bene le confezioni Ragazzi è plastica Allora abbiamo questo Guardate qua sotto È plastica, c'è un pinto Ferrero Rocher Facciamo tutto Ragazzi sono curiosissimo Allora la prima cosa partiamo bene Proprio Proprio tutto quello che mi aspettavo Guardate Proprio quello che non mi aspettavo in realtà Io vi ho detto che era un cioccolato Ma in realtà come potete vedere è plastica Ragazzi Non me lo sarei mai smettato C'è Tipo un pinto Ferrero Rocher Aiuto C'è cos'è? Vabbè Apriamo Ah c'è pure l'apertura Ok C'è cosa? Io pensavo che era cioccolato Mi avete deluso ragazzi Non voglio ovviamente Quello che non ho creato Perché io sono intelligente L'ho detto che c'era L'ho detto L'ho detto io Ok basta L'ho detto io che c'era la pallina dentro L'ho detto Ma c'è qualcosa dentro? Io l'ho detto Io l'ho detto Eh eh Vogliamo fare finta Vogliamo fare Ok Ha fatto il rumore Ecco si è aperto Oh Che carino Guardate Che carino E' pucciosissimo Buono Buono Visto sono intelligente L'ho detto Che c'era questo dentro Ma guardate C'è un puccio C'è Sono di ferro C'è proprio Pucciosissimo Guardate Come sono carini Ok E' aprirlo Troppo carino Guardate Com'è carino Bellissimo Quindi Sono delusa No Perché C'è tanto cioccolato Da mangiare Questa qui È molto carina Mi piace Quanti Sono troppo Pucciosini Anche se sono Dei ferro Quindi Non sono delusa Ecco Ora sapete Cosa c'è All'interno Del mega Ferrero Rocher E quindi Al prossimo video Ciao Like Ferrero Rocher Gigante Like E anche per me Se volete E poi Se volete Sempre Iscrivetevi al mio canale E al prossimo video Ciao Ciao